Salve a tutti ragazzi, sono sempre un Redbox e bentornati in un altro giochino random che ho trovato sempre su internet, vi lascerò il link in descrizione In caso mi ricordi, se non mi ricordo scrivetemelo nei commenti e lo aggiungerò E questo gioco si chiama Survive the Mafia Io direi di partire subito in The City, ci sono due mappe, speriamo che sia bella come mappa, se partisse sarebbe anche bello Oh 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 tizio, calmati Qua c'è la vita, ok, oh mio dio, che cas... oh munizioni Oddio ho tirato una granata, no 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 no, oh dopo 30 anni esplode, però vabbè Dove sono quei maledetti, oh mafiosi del cavolo Morite mafiosi Via 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 via, musica epica per un gioco epico No in realtà è un gioco talmente random che non so nemmeno se riuscirò a farci un intero video Quanti colpi ci vogliono perché muoiono? Via, via datemi le munizioni No, no 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 no, mafiosi non mi avrete mai Via 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 No, questa è la mia città Dovete stare lontani, questa è la città mia Non so nemmeno perché si chiama survive the mafia È un gioco dove devi sparare a dei cosi Che mi hanno anche incastrato Mi hanno incastrato Via No no no, no no no, sono troppi Sono troppi questi mafiosi Sono troppi questi mafiosi Sono troppi Troppi mafiosi per i miei gusti Troppi mafiosi per i miei gusti, non ho più colpi Via, via Muori Via, 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 via Tutto questo vuoi da me Devo entrare qui Oh, vita Ora ho bisogno di colpi Ho tantissimo bisogno di colpi Allora entrano se io sto qua Uno è entrato Peccato che sei entrato Come faccio a salire? Voglio salire più in alto Ok ci sono Posso salire ancora più in alto Ci metto 30 anni a salire le scale Oddio la granata Mi sono dimenticato Via Oddio La granata, la granata Au Uh, salve No No, sono caduto Via Granata, granata Granata, granata Non ho più colpi Non ho più colpi Via, via Non ho più vita Non ho più colpi Non ho più vita Non ho più colpi Non ho più vita Vita Uh, colpi Oh No, no Perché non si ricarica? Ho preso i colpi Ma non si Ah, eccoli No Io direi di fare un secondo tentativo Allora La vita è qua E per il momento la lasciamo lì Perché non sembra Che io ne abbia bisogno Qua ci sono colpi Boom 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 Headshot Bitch Posso uccidere da lontano? No Non è proprio il massimo Ok Per il momento va tutto bene Per il momento va tutto molto bene Altri colpi Perfetto Boom Muori Ok Questa è la mia città Salve Venite qua Morite tutti Morite tutti Non mi avrete mai Ah 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 Cosa ci fai tu in casa mia? Munizioni Sì Sì Munizioni per me Ah 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 Non mi avrete mai Vivo Non mi avrete mai Ah Rossi maledetti Oddio Sono incastrato Nei vostri cadaveri Uuuuuh Oh Oh Pochissima vita 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 Perfetto No 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 Oddio 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 Dovete morire Tutti Granata Via Cool guys Don't look at the explosions Sono incastrato Dai vostri Cadaveri Del cacchio Oddio Ma cosa siete Non ho più colpi Colpi ci sono lì Colpi colpi Via 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 Colpi E vita Via 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 Vita un'altra granata Levati Non sponare nelle mie case Wow Wow Che esplosione Via 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 Non ho più colpi Non ho più colpi Non ho più colpi Però ho una granata Ho una granata E non ho paura di usarla Non ho paura Di usarla Siete morti Oh Sì che sono morti No 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 Il mio punteggio più alto è 69 Wow 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 Non vedo nessun Salve Salve È tipo Call of Duty zombie Ha un certo senso Però molto più Dove siete Oh Colpi Colpi Mira in testa E spara Ok Ok Testa e spara Testa e spara Testa e spara Testa e spara Molto bene Testa e spara Testa e spara Testa e spara Wow Wow Calmi Calmi qui Questo è il mio territorio Testa e spara Testa e spara Cosa Cosa Perché saltano così le ragdolle Testa e spara 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 Wow 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 Calmissimi Calmissimi buongiornissimo caffè ma perché non prendete un caffè invece che uccidermi cosa vi ho fatto di male caffè 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 volete un caffè lo volete basta basta col caffè basta col caffè che poi mi rende nervoso e non posso essere nervoso quando gioco a questi giochi che puoi chiamare questo gioco è un parolone per il momento oi 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 tanto ti calmi colpi colpi wow 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 e prendimeli sti colpi glice della vita ma ancora sono pieno quindi apposta oi e no eh e no eh perché non ho il giardino le ragdoll che saltellano wow 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 che strage oh po di vita pochi colpi mettiamo una granata boom che che cazzo di volo ha fatto la sua pistola no 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 via ho bisogno di altre munizioni eccole eccole via 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 Ho trovato un caricatore Voi le scale non le salite, vero? Oi, oi, ho detto che... Eh, vabbè Ma così è troppo easy Eh, sono glitchati Guarda Però non ho più colpi, quindi Ora è meglio che io cerchi Dei proiettili da qualche parte, forse qua sopra Comunque ho battuto il mio record 104, vi sfido a battere il mio record Tanto è gratis questo gioco, essenzialmente Ok, c'è gente ovunque Gente fottutamente ovunque E continua a nascerne Uh, lì ci sono dei colpi Miei colpi Miei, miei colpi No, la granata mi ammazza Mi ammazza, mi ammazza Ho già finito i colpi di nuovo Ma non è possibile Non è possibile Non è possibile Colpi, 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 colpi Testa, testa, testa Testa, testa, testa Testa, testa, testa Testa, testa Oh, che mucchio di... Oh, quanti sono Quanti sono No, 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 via, via, no, no Granate ce le ho però Via, 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 via Sì, colpi Ma come? Dal tetto no No, 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 no Esplodete? Sì, tutti quanti Perfetto Oh, vita anche Molto bene Muori Muori Chi mi spara? Chi è così cazzuto da spararmi? Muori Muori Pochi colpi No, sono caduto Sono caduto Sono caduto Ci sono altri colpi Altri colpi, altri colpi Dammeli questi colpi No No È la fine È la fine per me È la fine Non ho più niente Non ho più niente È la fine È la fine No No, c'è ancora una scatola di proiettili Oddio È la fine È la fine È la fine Va bene ragazzi Io direi che è davvero la fine per questo video Se vi è piaciuto lasciate tantissimo mi piace Troverete il link per scaricare il gioco in descrizione E se volete vedere altri video di giochi random trovati su internet Lasciate tantissimi mi piace Se arriviamo a 622 mi piace Farò altri video di giochi random trovati su internet Che saranno video singoli Perché di solito questi giochi sono molto semplici e basilari E non c'è molto da farvi vedere Allora vi ho fatto vedere praticamente tutto Quindi per questo video è tutto E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video Ciao